C'è un solcino tutta la repressione, la provincia non dà spazi per l'aggregazione. Che cosa si fa? Si scende a un compromesso, ma la realtà è che tanto è lo stesso. Eppure al volante in autogestione, ma lo spirro è sempre pronto a farne una questione. Mi sento affogato, attrezzo e controllato, strumentalizzato, vivo per lo Stato. Conoscendo la soluzione, non la noia di questa nostra città. Crediamo nell'occupazione, dichiariamo vendetta a Fodega. Occupazione, 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 occupazione. Allie disperse e abbandonate, sono un po' di essere sfruttate. Facciamano le autorità, che hanno un po' in questa città. Occupazione, 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 occupazione. Quello è il reparto 7-7, dedicata alle Solerti Forze dell'Ordine, che anche qui, stasera, sono qui con noi. Ciao, grazie! 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 Grazie!